Esistono tre principali teorie dello sviluppo, comportamentismo, approccio organismico e approccio psicoanalitico. Verranno analizzate le differenze fra di esse. Secondo il comportamentismo, il mutamento nei comportamenti è modellato dagli stimoli provenienti dall'ambiente. I bambini tendono a ripetere azioni comportamentali che sono state rese positive dall'esterno, mentre evitano quelle che hanno portato a conseguenze negative. Questo approccio si propone di adottare un metodo scientifico attraverso delle sperimentazioni in laboratorio e osservazioni sistematiche e controllate. La sua area di studio riguarda i processi di apprendimento. Una variante radicale di questa teoria coinvolge il condizionamento classico e operante, concetti che si possono riassumere nell'idea di apprendimento associativo in cui uno stimolo induce una risposta. Per quanto riguarda il condizionamento classico, parliamo di Pavlov. Pavlov è un fisiologo che eseguì un esperimento sui cani negli anni 1890. Durante lo studio notò che i cani iniziavano a salivare quando un assistente entrava nella stanza. Pavlov scoprì che oggetti o eventi associati al cibo, come in questo caso il camice bianco dell'assistente, avrebbero scatenato la stessa risposta. Da ciò ipotizzò che la salivazione fosse una risposta appresa. Questa teoria portò allo sviluppo del condizionamento classico, in cui un nuovo stimolo viene associato a uno stimolo incondizionato per creare una risposta simile. Nell'esperimento il cibo fu lo stimolo incondizionato e il suono del metronomo fu lo stimolo neutro. I cani furono esposti al suono del metronomo seguito immediatamente dal cibo. Dopo diverse ripetizioni i cani salivavano già al suono del metronomo senza la somministrazione del cibo. In sintesi, l'esperimento dimostra come uno stimolo neutro, come il metronomo, possa diventare condizionato tramite associazione ripetuta con uno stimolo incondizionato. La risposta incondizionata, ovvero la salivazione, viene appresa per via associativa e diventa una risposta condizionata allo stimolo condizionato, suono del metronomo. Il condizionamento operante è una teoria dell'apprendimento sviluppata da Thorndike e successivamente perfezionata da Skinner. Questa teoria si basa sull'idea che il comportamento sia influenzato dalle sue conseguenze, ovvero dalle ricompense o dalle punizioni che seguono un'azione. Un esempio classico di condizionamento operante è l'esperimento di Skinner sui topi. Egli ha creato una scatola, nota come Skinner Box, in cui un topo poteva premere una leva per ricevere il cibo come ricompensa. Skinner ha scoperto che se il topo riceveva una ricompensa ogni volta che premeva la leva, il comportamento di premere la leva aumentava di frequenza. Questo fenomeno è noto come rinforzo positivo. Attualmente i ricercatori hanno spostato l'attenzione dagli animali ai bambini e hanno utilizzato proprio il condizionamento operante per studiare il comportamento dei bambini. Ad esempio il riflesso di sozione del lattante può essere influenzato dal condizionamento operante. Infatti se un bambino al seguito della sozione riceve latte come ricompensa, allora il comportamento di sozione aumenterà in frequenza. Sempre nell'ottica del comportamentismo si va a introdurre la teoria dell'apprendimento sociale di Bandura, uno psicologo canadese che ha introdotto il concetto di rinforzo vicariante. Il rinforzo vicariante si verifica quando un individuo impara a comportarsi in un certo modo osservando le conseguenze del comportamento di un'altra persona. La teoria dell'apprendimento sociale di Bandura si differenzia dalle teorie del condizionamento classico operante in quanto sottolinea l'importanza dei processi cognitivi e del ruolo dell'ambiente sociale nell'apprendimento. Volendo sintetizzare le tre correnti dell'approccio comportamentistico, per quanto riguarda il condizionamento classico abbiamo introdotto Pavlov e abbiamo detto che l'apprendimento della risposta incondizionata avviene per via associativa. Poi c'è il condizionamento operante. Per Skinner l'apprendimento avviene mediante rinforzo e infine la teoria dell'apprendimento sociale di Bandura secondo cui l'apprendimento avviene mediante l'osservazione o limitazione di modelli.